ciao stefania siamo qua con mirella ciao a mirella ciao conto da 5 a 1 5 4 3 2 dimmi se la vedi ti la sto vedendo e vedo allora una una montagna una montagna molto alta un po innevata sulla punta e vedo lei che è vicino mi sta facendo vedere una pianta di di albero da frutta può essere un ciliegio e mi fa vedere i fiori fiorellini ti dà l'autorizzazione si va bene mirella è legata al giappone i ciliegie in fiore sono una delle attrazioni della primavera giapponese c'è e lei lì è una stimatrice dei fiori è molto contenta la vede molto contenta ma è lei come mirella no 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 non avete passata ok sempre una donna però vibrazione 20 miliardi consapevolezza 125 per cento anima percentuale 73 vite precedenti 1780 cervello 5,6 e 5,6 ok beh non l'abbiamo detto ma comunque chiamiamo nel cinema le sue due figlie il marito se vogliono venire vedo che si aprono le porte c'erano c'era già la figlia più grande che era già dietro che aspettava entrano entrambe il marito entra da un'altra porta come fosse una porta secondaria una porta tipo uscita di emergenza se ci sono causa di me vedo anche un'amica c'è un'amica una una donna potrebbe essere un'amica o forse una sorella una cugina però una figura femminile che potrebbe avere pari parietà di lei adesso nel cinema ok vediamo se se vedi qualcosa relativamente alla vita di inizio sessione quella in cui lei è giapponese come si chiamava mi viene il mico o io unico io unico diciamo il mico ok quanti anni aveva ma lì ne aveva dai 27 30 più verso i 30 vedo che appunto una donna una ragazza e non è sposata e vedo che è molto appunto vicino alla natura amante della natura e tanto appunto a contatto con le piante non è il suo lavoro perché vedo che come se lei avesse stesse ancora studiando c'è un papà una mamma sono ancora in vita con la vita lì è un fratello ma sembra un fratello non su non suo di sangue potrebbe essere un figlio del solo della mamma figlio solo del papà che lo fa il mico lei come se fosse una ricercatrice come se più che occuparsi delle piante si occupasse dello studiare la fioritura dello studiare gli insetti che creano beneficio le piante quindi che aiutano le piante come come fosse una ricercatrice una studiosa di un dell'ecosistema anziché tipo coltivazione dinamica ecco quindi tutto tutto naturale quindi senza pesticidi ma che cosa fa bene cosa insomma in modo che tutto sia in equilibrio questo sembra un mille inizio 1800 1816 mi viene si vede il monte fuji sicano sì lo vedo innevato però ce lo vedo con la punta innevata è un inizio forse lo è quasi sempre forse non sbagliare ma è 12 mesi all'anno qualcosina è molto alto penso che il periodo che sto vedendo può essere un inizio di primavera proprio sì 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 e 3.700 sono c'è la neve fa di altezza ok causa esuteno ragione per cui ci mostra la ps esattamente questo momento quella vita il monte fuji sulle spalle della tua visione e la primavera e 10 10 sembra la cosa più classica che si pensa a giappone c'è tutto no mancano il cosplay ma per il resto allora vedo che ma lei è una gonna lunga tra l'altro una cosa molto lunga cioè non so non sembra né un manga né niente è molto classica nel vestire ma del 800 sicuramente ma mi mostra questo perché è come se la sua ps fosse tornata spesso lì in giappone in oriente in generale ma in giappone nelle ultime vite come se avesse fatto parecchie esperienze in giappone vedo questa ma ne vedo una ancora prima e la vedevo mi arriva questo come un maestro di armi a un maestro d'arma mi arriva come uno come si chiamava quello che creava le le catane le spade comunque vedo che batte batte il ferro batte per creare delle armi questa ancora precedente a questa esistenza qua che mi fa vedere adesso è come se lei fosse collegata al giappone per via di esistenza che l'hanno gli hanno dato un grande senso di libertà perché in questa lei la vita credo io in quel momento sta scegliendo di essere libera non è sposata per scelta e anche il maestro d'armi vedo che lo vedo da solo cioè vedo che non ha avuto una vita in compagnia ha avuto amici ha avuto parenti però non ha avuto una moglie una compagna e dei figli perché è stata una scelta proprio di dice una scelta di libertà ok quindi ci mostra questa vita per collegarsi alla vita sentimentale di mirella in questa vita sì e anche per ricordarle quello che è la sua necessità di libertà che le ha fatto già diversi passi di esistenza in questo senso per cui la scelta di essere accompagnata una scelta più recente la scelta di trovare la fiamma la scelta di accompagnarsi delle persone come in questa vita più per diciamo per per dovere che per reale necessità diciamo no più perché pensava che fosse quella la sua strada rispetto invece la sua quello che invece è la necessità più più profonda che da cui arriva diciamo così che è più di di essere libera cioè di vivere in libertà ok mirella a le sono tornate delle entità eteriche io ne vedo una quando ha iniziato a parlare ne ho vista una come fosse un suo doppio come forse un clone come fosse la vedevo che praticamente c'era lei poi c'era un cordone argentato e poi c'era un suo doppio proprio un uguale a lei denti calai e come se gliel'avessero assegnato agganciata lì agganciata lì poi ciò come si chiama questo clone e dove a questo clone dire sul piano eterico ma questa corda la tiene collegata lei per cui non è in un altro posto fisicamente è proprio come in un'altra dimensione però come dire invisibile ai suoi occhi ma è come se fosse attaccata sul lato destro quindi un tubo che potrebbe essere un collegamento legato il passaggio di informazione così e poi un suo doppio proprio al suo alla sua destra però vive con lei con lei quindi non ha un nome se eterico no 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 non è in fronte lo presentano poi e poi vedo come se ci fossero tanti ma tanti no ne vedo 23 ma tanti cosa mi dà il senso che siano tanti in realtà un po lo stato di confusione perché si spostano velocemente però potrebbero essere due o tre come fossero delle forme pensiero delle forme pensiero che sembra non può essere tipo angioletti tipo del degli esseri alati dl e dl ma piccoli fossero solo altri così di solito vedo gli edl abbastanza alti cose al pari di noi invece questi come fossero dei piccoli dei tutti piccoli sì però per operazione dl e girano solo due o tre che le gira non può intorno alla testa questo all'altezza tra l'attaccatura qua tra la gola e sopra il capo che girano le entità mentali mira la sua seconda sessione e all'epoca non le abbiamo viste perché non riuscivamo a vederla se ne vedo una ne vedo due intanto però la prima è un livello 545 che varia è legata al senso di colpa il senso di essere in adeguata quindi in qualunque ambito lei frequenti ritiene questo questa interferenza questa entità mentale le dice che lei non è in grado di soddisfare quello che la richiesta del momento per cui può essere legata nell'ambito familiare l'ambito lavorativo nell'ambito di un gruppo entra inizia l'esperienza e contenta si sente appagata poi dopo diciamo così un paio di mesi inizia avere questa sensazione di non sono abbastanza meglio se lascio così non sono abbastanza uguale meglio se lascio meglio se smetto poi e poi c'è quest'altro quest'altra che è legata ma io la vedo qua qualcosa che è legata alla salute lo stato di salute è qualcosa che ogni tanto la fa l'aggancio nella nella preoccupazione di potersi ammalare 34 come se ci fosse un minimo diciamo di tre e poi può arrivare fino a quattro quando è più preoccupata perché diciamo che lo stato di salute generale io lo vedo buono no e quindi questa cosa è una cosa che l'aggancia ogni tanto la pola la tira la trascina diciamo si allarga questa forma questo sentita mentale e la trascina nel pensiero vedi se ti succedesse questo vedi se ti dovesse ammalare vedi hai la tosse chissà magari è così la fa entrare nella preoccupazione per la salute così può condurere sì 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 poi questi due qua c'è un altro che io sento che c'è un altro ma fino a come se si nascondesse come se fosse un po trasparente dietro le altre due chiamano questo qua ok adesso si apre come fosse una sfera che si sta aprendo per per mostrarsi una figlia mi dice una figlia come se allora lei ha avuto due figlie ma è come se ci fosse un pensiero di una terza figlia come se ci fosse ogni tanto il ritorno del pensiero di un altro di un figlio non nato non so su un figlio che non è che di fatto non è nato perché magari ha avuto un aborto spontaneo voluto oppure se era un desiderio di avere anche quest'altro figlio però è lì e lì si nasconde perché come se fosse segreto fosse qualcosa che non che persino nasconde a se stessa però lì e lì che l'accompagna insieme agli altri due di livello sarà due però lì c'è non disturba ma è comunque cioè non è invasivo ma è comunque un peso che lei potrebbe non avere il discorso di avere un maschio siccome lei ha avuto due femmine la rammarico di non aver avuto un maschio che potrebbe essere questo o potrebbe essere proprio un figlio che non è nato non c'è questa distinzione non mi dà questa decisione da scrivendo adesso mirella che ha avuto un aborto a causa della famosa setta di moon quello si potrebbe essere questo adesso ci arriviamo alla setta ma ci sono degli impianti eterici e mentali allora partiamo dal basso a vedo qualcosa a livello della che prende la caviglia fino come uno come uno quelli stivali da per andare a cavallo quelli di gomma no che praticamente sono piatti sotto però inizia dalla caviglia e vanno su e vanno un po su un po arrotondati tagliano il ginocchio a metà così come fosse proprio uno stivaletto nella gamba sinistra come fosse un sovra gamba sovra gamba fino al ginocchio e poi vedo e poi vedo a livello della della dell'anca a destra zona destra anche lì c'è un impianto iliaco simili come la cresta iliaca penso che si chiami così non so vedo questa scritta quasi e poi e poi no no poi basta qualcosa qua in questa zona come un tessuto appoggiato qua anche lì è un altro pianto lei dice che ha avuto un calo fortissimo dell'udito a parte destra ecco sì allora poi salendo 123 quello del calo dell'udito lo vedo che è collegato a alla parte mentale della paura delle malattie adesso ci arriva allora falco su vedo che lì però nell'orecchio adesso non c'è nessun impianto è legato a una forma mentale questo problema dell'orecchio destro e poi basta sulla testa non c'è più niente ci sono quelle cose che ho detto mentre impianti mentali non ce ne sono non ce ne sono però vorrei tornare un attimo all'orecchio allora l'orecchio questo problema all'orecchio dicevo che collegato a l'impianto non all'impianto scusa luce aiutami con la parola alla interferenza mentale entità mentale entità mentale quella legata alle malattie no è come se ha avuto ha avuto un problema la testa tipo un forte mal di testa è partito da quello tipo appunto l'emicrania tipo non so vedo vedo che c'è qualcosa un punto di origine legato alla testa e poi si è si è attivata questa questa sfera della paura diciamo così e le è rimasta questa cosa dell'udito ma è collegata alla sua è ancora così basso così l'udito perché collegato ancora questa paura sganciandosi dalla paura di perdere l'udito anziché che questa cosa rimanga così va a riprendere l'udito riacquistare diciamo dei decibel di udito però non ci sono impianti legate alla testa ok finiti gli impianti no si va bene il il guru della 7 è morto mirella sì io lo vedo morto che chiamiamolo separatamente dalla zia dalla madre che le chiamare espressamente e che hanno il podio con microfono diciamo la prima portale aureo e mettiamo chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di mirella tre cose diverse diciamo che il leader della setta moon arriva alla fine ok allora ho aperto portale aureo e ci sono già i parenti che stanno scorrendo e con le delle generazioni collegate a lei ok che stanno passando vedo che sua mamma e sua zia sono lì in prima fila sono a lato sull'imboccatura della pelle dell'entrata e vedo sua mamma un pochino più basso sia un po più altra le vedo così poi e sua mamma e vedo che larga le braccia e verso sua zia e verso di lei quindi fa così e poi verso di lei e vedo che è emozionata ma la sento come una donna consapevole quindi già di carattere già quando era già con dare vita e le dice così quello che le viene a dire che contenta di vederla di non preoccuparsi non è non è stata quando poco è mancata non è stata collegata alla terra non è non la non è stata vicino a lei o altri parenti e direttamente andate in un posto dove come si fosse creata un'altra realtà questa scusami e l'azio la madre e la mamma la mangia felice di vederla e il fa fa il gesto di abbracciarla fa il gesto di abbracciarla e anche fa il gesto verso le figlie che sono il cinema come di abbracciarla la zia la zia e ha un'espressione un po da non posso dire da furba da furbetta cioè nel senso che a quell'espressione un po maliziosa la guarda e contenta anche lei contenta la ringrazio di averla chiamata lì mi dice che aspettava questo momento che entrambe aspettavano questo momento di poter passare definitivamente e la sta guardando con uno sguardo come 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 da adulta verso una bambina no come mirella come quando la guardava quando era piccola insomma la guarda così un po con la faccia furbetta ecco mi vende a dire così diamo a tutti e due una vic una rappresa ancora la faccia furbetta la zia no c'era una interferenza vedo che dalla zia che si è sganciata quando ha preso la vix sganciata sì vedo che c'era qualcosa legata all'interferenza della zia che non era buona era molto cattolica sembra si era va bene ma non salviamo hanno presa si vanno il portale aureo adesso chiamiamo di nuovo i parenti di tutte le generazioni sì nel frattempo allora stavano passando già dietro ai parenti stavano già stilando ma ne vede un 300 25 per 130 si continuano e vanno tutti e chiudiamo lo chiudiamo anche portale aureo chiamava quello della moon sì e lì mi rende la sette esiste ancora sì e come va bene può come lo vedi a un'anima no direi che parte di ps lui li prende dai suoi fedeli c'è molto da dire salutiamo tanto non può neanche volendo andare nessun portale aureo non ha un'anima c'era molto da stupirsi semmai la domanda vera è una causa esoterica per mirella dell'essere stata tratta da questa setta e anni dopo di essersi ritrovata con un posto di lavoro in un posto di lavoro che le interessava ed era scoperto solo un secondo momento che era collegato i capi erano collegati ascentologi quindi c'è a chi non sa neanche cosa siano le sette c'è chi ci incappa ben due volte nella vita in una con tutti i piedi la seconda volta marginalmente però comunque anche in maniera abbattante sì la psa mi sta mostrando un'immagine di un esistenza precedente di mirella mi sta facendo vedere che lei ha fatto già parte in un'altra in un'altra esistenza di una fetta dove attirava sede i fedeli degli addetti era una fetta con delle ritualità quelle che mi fa vedere sono le qualità sessuali però non escludo con una parte che non vedo che non che non mi sta mostrando e legate sacrifici umani uomini donne bambini bambine non me lo mostra per scrupolo credo ma come lo mostri e viva la verità l'ho visto come in penombra però non me lo stavo facendo vedere allora guarda l'immagine in cui che vedo praticamente come fosse dico una chiesa ma può essere un tempio qualunque c'è era un uomo era un uomo e faceva parte di questo gruppo a cui non era capo ma era capo con altre quindi erano due o tre due o tre uomini potevano essere sui 70 anni è un'ambientazione gotica e del posto una chiesa gotica un posto così con l'ambientazione così e vedo con una una come si può chiamare viene da dire lapide ma non è era uno di quei tavoli altare come altare un altare sì però invece di strana dove si fa la la messa diciamo di solito è in centro la sala sacrificale vedo come degli archi come come dei soffitto a volta tipo quegli archi che potrei ricondurre tipo al 1400 quindi dei pali come colonne dei pali delle colonne con delle volte quelle volte proprio del 400 così che hanno iniziato a essere costruito in quegli anni e vedo che c'è una persona basta ma non era un bambino in questo caso che viene sacrificato per lui ha un coltello che sembra in realtà uno di quei coltelli fatti con l'osso un osso di qualche animale quelli lunghi denti di squadra molto lungo comunque lei ha questa vita nel passato legata a questo set ma lei è un ufficiante il rito si consiste si sta facendo scusami ti ho parlato sopra mi ripeti e pratica questi riti si le uccide si molto interessante forse è la prima volta no che vediamo una cosa del genere che hanno è come arriva 1300 inizio del 1300 e le 325 mi arriva potrebbe essere in francia cause esoteriche dell'aver riproposto in una vita sola quella di mirella la ps di mirella ben due esperienze con la setta in generale il concetto di setta è una e come se la 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 ps l'avesse fatta ad entrare in contatto ma per liberarsi definitivamente dall'esperienza perché è come se si fosse portata dietro da quell'esperienza una parte di come dire del voler continuare ambira il discorso della sacralità quindi della ritualità della sacralità no quindi come se l'è ancora da che è nata avesse inseguito ancora quella parte lì della sacralità ma non avendo più memoria di cosa comportava la ritualità da dove era partita e quindi come farle di avere un riaggancio per poterla lasciare definitivamente come un riportare alla memoria attraverso un'esperienza che era minima quella che ha fatto lei se non alla memoria diciamo con la mente con la ragione ma quella la memoria delle cellule insomma quindi per poter decidere definitivamente di non averci più a che fare va bene causa esoterica dei problemi di soldi dei debiti e dei problemi di lavoro allora i problemi soldi li vedo molto legati a questi queste interferenze che anche le girano intorno alla testa no questi dl è come se diciamo si creasse livello del pensiero una grande confusione no quando questi iniziano a girare e come se lei inizia a saper perdere la concentrazione su quello che è l'obiettivo su quello che è importante no e per cui come inizia a barancolare così a andare a caso perché le porta proprio una disfunzione proprio a livello della della concentrazione del pensiero questi girano girano come fossero diciamo no vedere una mosca che disturba ma questi non si vedono quindi non sai dove andare a confusione si mi porta proprio questo quindi ogni volta che si mette degli obiettivi come anche quando ha avuto un punto le esperienze di soldi che raccontava e sarà data magari un limite un obiettivo e poi ha continuato invece a allargare magari il debito no dimenticarsi da dove la partita e che cosa voleva fare cosa voleva raggiungere e quindi iniziare a rimettere tutto in questo questo calderone in questa rimescolamento lo vedo legato a queste dl in particolare causa di attire che deve avere sempre di polvere di lavoro di sentirsi azzerata allora dei problemi lavoro vedo la parte legata all'entità mentale rispetto all'incapacità no quindi inizia inizia convinta e diceva questo è un bel lavoro qua io ci starò bene ci sono dei buoni colleghi quindi inizia in modo positivo per come la situazione quindi un po la idealizza però ci sono anche state delle vedo delle condizioni positive non è nei lavori che ha fatto nel passato poi inizia a presentarsi questa sfiducia nelle sue capacità che lei ha verso se stessa perché prima che gli altri iniziano a fare mobili iniziano a far tutte le loro azioni lei ha già non mi posso dire ha già iniziato quest'opera di sgretolazione nel rapporto lavorativo no per cui è come se lei minasse minasse proprio il rapporto lavorativo cioè potrebbe in questo condizione no che ha vissuto finora potrebbe anche trovare il lavoro migliore per lei che dopo due mesi circa perché questo più o meno nel periodo che ci mette per per entrare in gioco questa questa entità mentale inizia a minare quindi inizia a dire mai a pensare ma io non sono abbastanza capace e si accorgono che non sono capace e inizia a mettere in atto una serie di cose sabotaggi e autosabotaggi ma anche di copertura cioè avendo sfiducia nelle sue capacità dice per far sì che non si accorgano che magari non sono capace no allora questa cosa non la consegno questa cosa non la faccio quindi proprio degli autosabotaggi ma molto forti molto potenti diciamo quindi da lì in poi inizio sgretolarsi proprio rapporto proprio la fiducia che ha verso se stessa e gli altri la fiducia che hanno in lei proprio così come sgretolarsi come fosse un muro che vedo che si che si sgretola quindi non c'è una causa oggettiva del cattivo andamento delle suoi lavori precedenti vedo una causa soggettiva che è legata a questa entità mentale che invasiva e che le ascolta volentieri diciamo così cause storica del suo grosso rapporto con il giappone ha legato tutta la sua vita lavorativa affettiva e la casa al giappone questa esperienza che le ha fatto sono state due esperienze due belle esperienze due esperienze positive più di altre e lei è la riporta in giappone il desiderio di rivivere quelle le sensazioni di libertà principalmente quindi la sensazione del poter stare anche bene da sola quindi essere sentirsi completa e anche a contatto con la natura questa è stata l'ultima esperienza invece quella precedente è stato del maestro di armi diciamo così che ti creava però sono state due esperienze che lei l'hanno sognata molto addirittura queste due l'hanno sognata di più in positivo rispetto a quell'altra di quando faceva parte della setta di quando era tra i capi della setta per cui questa è stata un'esperienza che cerca di riportarla ali proprio in giappone questa sua voglia di essere libera e dice poi di viaggiare di coltivare i suoi hobby se possibile di non lavorare è il suo obiettivo in effetti quindi ritorna se la necessità di libertà sì ok dovevamo vederlo magari prima che c'era la madre ma che è entrato nel portale aureo ma vediamo in ogni caso la causa esoterica della nana attività della madre adesso che me l'hai detto me l'hai ricordato perché l'ha detto nei punti prima capisco la posizione del corpo di sua mamma non prima della vic perché allungato le braccia però non mostrava a parte a parole non dava vibrazioni legate alle emozioni quindi mi hai fatto agganciare una cosa prima allora la mamma perché erano affettiva la causa esoterica allora ma intanto sì allora per come vedo la mamma vedevo la mamma quando era in vita e la vedo fisicamente intanto ferma questo mi dice questo che c'era una parte allora come se lei avesse una parte legata non era riconosciuta forse allora ma tipo un disturbo di cognitivo o non di apprendimento ma come fosse una sorta di aspetta una sorta di autismo e poi mi viene incontro una sorta di autismo ti diciamo che uno uno spettro del dell'autismo quindi la vedo fisicamente ferma anche perché nei movimenti che vedo che faceva era erano dei movimenti abbastanza rigidi cioè movimenti che non c'era una gesticolare anziché faceva dei movimenti che erano abbastanza fermi da qui a lì e faccio questo movimento però non si lasciava andare ad altri movimenti lo vedo anche per come muoveva il corpo che c'era una parte mancante mancante a livello cognitivo e che andava a riflettere sulla parte emotiva veniva percepita percepita così come l'affettiva però era una parte che lei non non viveva quindi non la poteva non la poteva portare fuori era proprio mancante in lei con la parte però la vedo proprio come spettro dell'autismo uno spettro autistico aveva la madre la madre questo è po la ragione per cui c'è stata una forma di annaffettività verso la figlia sì sì perché lei non lo sentiva non che non sentisse i sentimenti proprio non si era una parte mancante sua mentale che quindi nel corpo lei non 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 manifestava però i sentimenti lei li sentiva sentiva la rabbia e lei lo somma la figlia lo sa perché si trovava la vedeva la vista arrabbiata più volte quando era contenta faceva un accenno di sorriso per cui lei riprovava i sentimenti però c'era come un limite entro il quale lei non oltre al quale le non poteva andare fisico ok vita sentimentale disastro causa esoterica e vediamo se c'è la fiamma allora partiamo alla vita sentimentale intanto devo partire da quella che la ps l'indicazione della ps no che lei ha questa natura questa parte proprio che è molto forte e ti dico possono può essere una progettora del 70 per cento di necessità di essere libera anche rispetto alle relazioni sentimentali ecco quindi di questa parte lei ne è poco consapevole quindi sente bisogno la riconosce come bisogno di viaggiare bisogno di spostarsi però non ha ancora la consapevolezza la percezione diciamo così che che anche questa è una parte anche a cui è legata alla sua sfera sentimentale per cui è come se lei si legasse perché deve farlo perché ha l'idea che per essere completi bisogna necessariamente avere un'altra parte no avere un marito un finanziato però quando ce l'ha che inizia una relazione inizia come a spingere a spingere perché ci sia più spazio tra lei e la persona quindi si crea proprio quello spazio che è legato alla sua necessità di di non condividere i momenti ogni momento insieme all'altra persona per cui può aver trovato delle persone che non andavano bene però dovrebbe partire proprio della del sentire se lei ama avere a fianco una persona ed è così oppure se ha più bisogno di di essere libera quindi a quel punto definisce che tipo di relazione le sta meglio no una relazione di tutti i giorni non è quello che la sua ps non è quello che la sua natura la la porta a vivere diciamo quindi è infermata la fiamma la sua fiamma non la sento non la sento vicina non la sento vicina ma non la sento vicina perché come se lei non avesse deciso di incontrare la fiamma adesso nel senso che il conto con la fiamma non è una moda l'intento disperato la ricerca di una soluzione a soluzione tampone a altri tipi di situazioni malessere della fiamma e ben alto e messa così come quinto punto scritta come me l'ha scritta lei mi sembrava proprio che insomma fosse come la sedi scrivendo tu no sì penso che il suo punto principale a livello effettivo sia proprio riuscire a riconoscersi ad accettare questo ad accogliere questa sua parte che ha necessità di trovare appunto un suo spazio della libertà no a quel punto lei può valutare se l'incontro con la fiamma oppure un anima gemella o un'altra persona può incastrarsi in questo quadro no diversamente ogni cosa che inizia alla probabilità di finire perché lei non ha ancora accolto questo questo aspetto qua della sua necessità profonda di vivere in libertà quindi se qualcuno se calza e magari si vedono faccio un'ipotesi tutte e due decidono che stanno bene vedendo su una volta settimana una volta al mese due volte settimana no però finché lei pensa che che deve avere una relazione di sette giorni su sette mentalmente e poi fisicamente e emotivamente invece ha bisogno di effetti di essere libera e vedere questa persona ogni tanto ci deve fare pace diciamo con questa sua parte che che non ama le costrizioni ecco ok direi che abbiamo visto tutto e poi la fermo lavoro finale anche sulla sette e le sette in generale ma mirella deve lavorare su se stessa quindi la invitiamo ad andare nel cluster qui mi aspetto ci siano dei contratti in parte sull'entità eteriche che sono tornate veramente in minima parte dire di l dire niente è un clone un clone per cui non ci può condizionare ma insomma in maniera impattante come può essere un'entità del secondo universo ecco ed andiamo quindi con lei al cluster a me cluster vedo come un una sorta di di tempio basso con appoggiata alle pareti delle nicchie nelle pareti e all'interno ci sono come dei rotoli dei rotoli che di solito credo che si usino per le preghiere no quelli che si aprono così che hanno due parti metalliche e ci sono i contratti messi nelle nicchie così tutta la parete con delle nicchie sono dei contratti cosa ne vuole fare a lei ha dato un colpo così ma ha dato un colpo così come fosse in mano un bastone con in fondo una tipo una scopa così e ha tolto via tutto ok assicuriamoci che le abbia messo in un portale definitivo ok quando l'ho fatto gliele fai chiudere e lo fai chiudere il col portale e vediamo di invitarla e le invitiamo a creare una d'eternum ed una d'eternum veritas si sono tutte chiuse allora per creando la d'eternum la creata inizialmente come fosse una fiammella come si è acceso ha illuminato una fiammella sull'arancione e poi è diventata una bella sfera sì e l'ha messo lì l'ha posizionato invece quello verità lo sta creando con le mani e partire dall'esterno come a con globare tutta l'energia che può raccogliere così che si raddensi diciamo così l'ha fatto in quel modo lì sì c'è ci sono anche avatar se siamo all'avatar e lo vedo stavolta lo vedo metallico come ecco come fosse l'uomo di l'uomo di latta della storia di alice presente le pezze delle meraviglie mago di hozzo sì sì ma così mago di hozzo esatto e vedo così si gira guarda via e anche qua lasciamo due ad eternum l'ha fatta sparire bene con queste nuove condizioni mica mirella ha ancora qui 3 dl 23 ed il clone no non è più niente entità mentale 5 inadeguata 4 i programmi di alta due terzo figlio figlia e impianti di qualunque tipo no il clone esiste no il colon prima è diventato come invisibile e poi ho visto che c'è stato come un è andato via c'è nel senso che non c'è più è come se fosse stato risucchiato non c'è più no non va via l'azione da 45 45 miliardi va bene non è molto perché solo poco più del doppio quando nuovamente dieci volte tanto vediamo cosa c'è c'è un canto vedo come un gancetto aspetta vedo come se come fosse una forma mentale legata al fatto che il creare l'ad eternum l'ad eternum veritas lì ci sia una parte della sua energia invece no c'è invece quello che crea lo crea ma non toglie da sé per fare l'ad eternum e però c'è questa c'è stata questa cosa mentale che la e sono una con convinzione una convinzione mentale che la ok ok adesso voleva rifare gli ad eternum e i due e i due quattro dicendole che questa energia infinita non è nell'edizione di caio e di tutto ok adesso si la fiammella che prima era piccolina da cui aveva originato l'ad eternum adesso era molto più grande e anche molto più luminosa ok nuova frequenza e adesso avete 300 300 miliardi nuova consapevolezza 165 per cento nuova valore percentuale della ps 63 per cento vite precedenti mille mille duecene mille cento settantacinque 7,2 per cento ok mandiamo tutti tu io e mirella una ad eternum veritas a tutte a tutti i partecipanti gli aderenti a qualunque tipo di set in questo tempo in tutti i tempi va bene aderire a qualunque set ma non interessa ognuno fare le sue scelte è importante che sia sempre ci sia sempre una dominante verità per esempio mirella sono state raccontate lei giovane e manipolate manipolate tante storie no su come doveva fare questo poi doveva fare quello poi doveva scontare quell'altro periodo poi ci volevano tre anni da aspettare poi bisognava avvitare che intanto lei lavorava gratis nessuno io l'aveva detto doveva nascondere la cosa è solo da sola ecco è questa verità che deve essere sotto gli occhi di tutti coloro che sono dentro un assetto messaggio finale di mirella a se stessa la piazza di mirella dice che questa esperienza di vita può diventare da qui in poi quindi può diventare la più bella di tutte le altre precedenti perché da qui che lei inizia ad avere consapevolezza e mi sottolinea la vera la vera consapevolezza che non parte dalla mente ma che identifica così che non parte dalla mente ma che che parte dal centro del corpo non mi dice cuore però come se ci fosse una parte qua che che ha la conoscenza che dice che da qui in poi può essere la più bella di tutte le altre esistenze che può trovare un nuovo motivo per vivere un nuovo posto per vivere senza di andare a riattingere a cose passate a cose vecchie e quindi può creare una nuova condizione ancora migliore di quella che è stata in giappone da qui in avanti no come come se potesse da qui in avanti dare un taglio a quello che è il passato senza doverci ricadere o senza doverci o doverlo seguire no che da qui in poi può veramente iniziare a creare quello che che è una cosa nuova che veramente in libertà in libertà perché l'ultima frase che mi sta dicendo che la libertà è quella che ti permette anche che raggiungi anche quando non segui dei vecchi modelli come delle vecchie tendenze ma inizia a crearne da qui in poi di nuovi va bene come la vedi ancora interferenze impianti no la vedo che sta sorridendo che si guarda intorno come fosse il centro messa al centro del proprio al centro del del mondo diciamo così no simbolicamente si guarda intorno come per decidere pensare quale posto può essere suo in che posto si può sentire libera e da qui in poi in quale posto può andare a vivere per dire quindi si sta guardando intorno per creare qualcosa di nuovo lo fanno le figlie e il marito nel cinema il fine marito e tanto le figlie che erano vicino si sono avvicinate anche al marito perché sembra che non ci fossero molti contatti almeno livello emotivo tra di loro quindi li vedo su tre insieme che stanno parlando stanno parlando come si stessero confrontando sulle loro cose ma anche sulle cose di mirella come fosse una riunione di famiglia ultima parola che può rappresentare tutto conclusiva a me arriva ancora il avere il coraggio di essere libera libertà si che può diciamo deve no se non deve comunque lei può proprio avere il coraggio trovare il coraggio avere il coraggio di essere libera di fare la scelta della libertà va bene la vedi bene sì sì la veda felice la veda felice che sto redendo è come fosse una nuova vita ok disco netti te loro da tutto e tutti e torniamo ci sono conto da 15 1 2 3 4 5 apri gli occhi come stai stefania bene poi metto un attimo giù mi rinserisco subito perché non mi resta la registrazione ok come deve mettere per me per mettere giù sì